Arcivescovo e Vescovo di Treviso, Monsignor Gardin è scomparso infine da Vescovo Emerito della Marca. Venerdì 28 i funerali nella cattedrale di Treviso e il suo successore lo ricorda così, chiamandolo semplicemente Padre Agostino. Padre Agostino è il mio immediato predecessore, fino ancora prima della comunicazione ufficiale della nomina ci siamo incontrati e da lì ha iniziato a raccontarmi con amore e con passione, con precisione anche la vita della diocesi. Penso che io abbia avuto il primo sguardo su Treviso attraverso i suoi occhi, la sua esperienza e adesso io personalmente, ma credo tutti insieme, ci sentiremo un po' più soli. Un Vescovo importante per la storia della diocesi, un legame stretto con Treviso e con la Marca, un frate conventuale, un francescano a tutto tondo. Era un signore nel tratto e nel porsi, non ostentava nulla, aveva una vita molto sobria, molto semplice e sapeva guardare agli altri con quello sguardo carico alle volte di ironia, ma sempre di grande affetto e davvero stava vicino ai più poveri, ai più piccoli, ai più deboli. Monsignor Gardina ha girato i continenti, ha servito il Papa in Vaticano, è stato ministro generale dei padri francescani conventuali, portando poi questa esperienza internazionale a Treviso con uno sguardo missionario sul territorio, lo sguardo di Papa Francesco. Grazie. 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 Grazie.